Tanti bambini e tanta voglia di sport per la terza tappa del Fit Junior Programme Provinciale che si è tenuto presso i campi della perriera e coordinato dal Tennis Club Sciacca, sempre attento alle iniziative promosse dalla Federazione. Tutti i ragazzini partecipanti hanno giocato davvero bene e con tanta sportività alla presenza dei vari genitori che hanno condiviso l'interessante spettacolo tennistico. Ottanture in totale i partecipanti che si sono dati battaglia agli etati dal meteo che ha regalato due bellissime giornate di sole. Buon torneo per i ragazzini della scuola Tennis Sciacca impegnati. Giada Sclafani seconda classificata nel green femminile, terzo posto di Sofia Morello e di Giorgia Mangiaracina nella categoria Super Orange, ottime prove di Aurora Guerreri e Fabio Veneziano. Primo posto per Calogero Liotta nel green maschile. Questi a seguire tutti i risultati. Super green femminile prima Giulia Gambino e seconda Laura Maria di Giovanna. Green femminile prima Bianca Annaro e seconda Giada Sclafani. Super orange femminile prima Adele Borsellino e seconda Giorgia Barbiera. Orange femminile prima Bianca Barbarino e seconda Nicoletta Fiorica. Super green maschile primo Davide Venezia e secondo Federico Borsellino. Green maschile primo Calogero Liotta e secondo Andrea Cacciato. Super orange maschile primo Vincenzo Scorsone e secondo Andrea Maiorana. Orange maschile primo Samuele Annaro e secondo Jonas Cappello. Red di Misto primo Gabriele Scorsone e secondo Cristian Russo. Intanto il tennis club Bischacca del presidente Vincenzo Sclafani tornerà in campo domenica per il campionato nazionale di Serie C maschile. Trasferta delicata sul campo in terra rossa del Cobisi Caltanissetta. In caso di vittoria i ragazzi di Colletti e Sclafani otterrebbero il primo posto del girone e quindi la finale playoff. Una grande occasione per il circolo e per la città di Sciacca.